e amici sportivi buonasera benvenuti all'appuntamento con il TMV News sarà una settimana caratterizzata dalla grande attesa per la partita dell'Italia contro il Belgio gara valida per i quarti di finale degli europei e in programma venerdì sentiamo dunque come sta andando la marcia di avvicinamento a questo appuntamento collegandoci con il nostro inviato Marco Conterio ben ritrovati da Coverciano ben ritrovati dal ritiro della nazionale stavolta l'Italia prepara la gara di venerdì ore 21 Monaco di Baviera all'Allianz Arena contro il Belgio contro Romelu Ducacu e compagni un'Italia che vuole tornare ad abbracciarsi a fare quello che se vogliamo è stato uno dei gesti più belli più romantici dei tempi recenti dell'Italia e qualcosa di cui effettivamente avremo tanto bisogno di farlo con questa spontaneità senza pensarci poi troppo a lungo e che negli ultimi tempi ci è mancato parliamo proprio dell'abbraccio tra Roberto Mancini, Gianluca Viali, i gemelli del gol, amici, fraterni, un'avventura insieme adesso spalla spalla con la nazionale il coordinatore nelle nazionali Viali e il commissario tecnico Roberto Mancini vivono veramente in simbiosi qua dietro a Coverciano vivono una grande esperienza, vivono soprattutto il sogno nazionale, vivono anche gli azzurri l'avvicinamento se vogliamo alla gara contro il Belgio, oggi qua alle mie spalle dal video center che vedete qua dietro ha parlato Matteo Pessina, un ragazzo maturo, studente universitario, però ha detto di questo, insomma uno che sa quel che dice, sa quel che vuole, sa che sfiderà, parole sue Romelu Lukaku, ovvero il nove migliore del mondo e poi non ha paura perché dice Kevin De Bruyne fuori probabilmente ha detto beh sarebbe meglio per noi ma dentro di me io vorrei fosse in campo per fermarlo e per batterlo perché è un'Italia che vuole abbracciarsi come hanno fatto Mancini e Viali ma che vuole farlo dopo aver superato gli scogli di impegno. Analizziamo adesso ancora meglio il Belgio che ieri ha battuto il Portogallo, il nostro prossimo avversario ai raggi X attraverso questa analisi da parte di uno dei nostri inviati, Tancredi Palmeri. Lo stadio la cartucca di Siviglia ha emesso il verdetto, ce la giochiamo con il Belgio adesso ci divideremo chi pensava che il Portogallo fosse meglio, chi invece voleva i diavoli rossi, bisogna vedere anche se avranno le corna piallate quelle di Hazard e di De Bruyne. Subito dopo la partita le dichiarazioni allarmanti di Courtois che dice fosse anche solo una contrattura per Hazard comunque sarebbe fuori almeno dieci giorni, ci vuole un miracolo per rivederlo in questo europeo. Roberto Martinez, il CT che dice De Bruyne non riesce a piegare la caviglia. Il Belgio è venuto fuori da una partita che era diventata attorcigliata, torna al collo il Portogallo pur nella confusione dei tanti uomini d'attacco buttati alla rinfusa però è riuscito a prendere un palo, a costringere Courtois ad almeno un paio di miracoli. Il Belgio che era partito facendo la gara dopo il gol, dopo l'infortunio di De Bruyne ha completamente arretrato il baricentro, ha passato il pallino, il Portogallo ha capito che non aveva più senso giocare di rimessa. Cristiano Ronaldo l'avete visto? Un pochino però non è ovviamente il Cristiano Ronaldo che cinque anni fa anche non brillando riusciva comunque carismaticamente a caricarsi la squadra sulle spalle. Rimane il capo cannoniere con cinque gol, sarà per la prossima partita internazionale per abbattere il record di tutti i tempi come marcatore con una nazionale di 109 gol di Alidaei ma si conferma ancora una volta la maledizione del campione in carica. Dal 1980 il campione europeo in carica non riesce a superare più di un turno a eliminazione diretta. L'unico che ci è riuscito è stato la Spagna nel 2012 e è andata dritta fino alla vittoria finale come ai noi sappiamo bene. Tancrei Palmeri per TMV News e stadio La Cartucca di Sevilla. Bene adesso voltiamo pagina ed occupiamoci della Fiorentina che dopo un lungo tira in molla è riuscita ad arrivare all'accordo con Vincenzo Italiano sarà lui il nuovo tecnico Viola. Ne parliamo con Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo buonasera ben trovato per parlare di Vincenzo Italiano che finalmente ha trovato l'accordo con la Fiorentina o meglio ha messo tutti d'accordo la Fiorentina, lo Spezia che da giorni settimane parlavano e discutevano di questa clausola rescissoria che legava Italiano allo Spezia. Alla fine Italiano la pagherà. Clausola da un milione di euro ovviamente con la regia della Fiorentina ma soprattutto Fiorentina e Spezia hanno trovato l'accordo per liberare anche lo staff di Vincenzo Italiano che oggi ha detto ai cronisti presenti a Firenze ci vediamo ora non posso parlare ma insomma l'accordo è stato sancito ed è questa una scelta nel segno della continuità perché Italiano è allenatore che per modulo per caratteristiche seguirà molto di quanto pensato dalla Fiorentina con Gattuso progetto abortito ancora prima di nascere col suo 4-3-3 certamente Nigo Gonzales ad oggi l'acquisto più importante non solo della Fiorentina ma di tutta la Serie A calza a pennello un esterno d'attacco che con Italiano potrà fare grandi cose ma soprattutto le idee progetti della Fiorentina non cambiano la Fiorentina va a pescare un allenatore che certamente non ha mai allenato a questi livelli ma forse è stato il protagonista di un vero e proprio miracolo nell'ultima stagione perché lo Spezia era squadra data un anno fa da tutti per spacciata i nastri di partenza col monte in gaggi più basso della serie eppure è riuscita a salvarsi quindi pur con tutte le difficoltà del caso per arrivare a Vincenzo Italiano la Fiorentina in una situazione di emergenza mette sotto contratto uno degli allenatori giovani più promettenti del panorama nazionale Restiamo adesso su Italiano e sentiamo le valutazioni sul neotecnico Viola da parte di Daniele Amerini che è stato tra l'altro suo compagno di squadra al Verona Italiano alla Fiorentina una trattativa estenuante Può essere diciamo l'allenatore giusto può essere un allenatore come poteva essere anche De Zerbi secondo me di quelli che vengono qua a Firenze per per dare un'impronta nuova un'impronta diversa rispetto secondo me agli ultimi anni chiaramente secondo me ci sono anche anche dei rischi perché allenatori giovani che hanno allenato magari in piazze non importanze come Firenze comunque sia ripeto Firenze è una delle piazze secondo me più difficili dove fare calcio e quindi ci vogliono oltre alle dote anche dei grandi attributi però può essere quello che farà di nuovo rinnamorare magari il pubblico e glielo auguro innanzitutto può essere quello che farà rivedere un grande calcio magari che è nelle sue corde l'ha sempre fatto dalle serie minori fino alla serie A quindi non ho dei dubbi lo posso fare anche qua chiaramente dovrà stare attento però potrebbe essere diciamo una felice scelta. I tuoi ricordi del Vincenzo italiano da giocatore visto che sei stato suo compagno di squadra nel Verona? Ricordo mi ha rubato il posto quindi non so ricordi tanto belli no scherzo scherzo perché comunque era giocava nel mio ruolo era già un ragazzino da giovane da io mi sembra dicevo 24 lui lui 20 ora o lui 19 o 23 insomma quindi però aveva già le idee ben chiare era un regista illuminato vedeva il gioco già appunto in campo e credo che anche il ruolo dove ha giocato l'abbia aiutato poi a fare l'allenatore però era comunque una persona una persona vera un ragazzo intelligente che si faceva comunque già nello spogliatoio ben volere da tutti però con la sua col suo carisma e la sua personalità già già da giovane quindi immagino che adesso sarà tutta l'ennesima potenza. Conoscendo Firenze qual è il consiglio che ti sentiresti di dargli? Ma il consiglio innanzitutto non credo abbia bisogno dei miei consigli però è chiaro che viene ripeto in una piazza comunque critica bella stimolante se fai bene chiaramente hai il doppio delle soddisfazioni però è una piazza critica che a cui piace comunque vedere il bel calcio quindi gli consiglio di non snaturarsi di fare quello che ha sempre fatto fino a ora chiaramente con con l'intelligenza secondo me di misurarsi con una piazza che io reputo lo ritorno a dire sempre comunque come difficoltà a livello di Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli. Ancora un'altra opinione su italiano da parte di un suo ex compagno di squadra Ricky Ricler che ha giocato con italiano nel Chievo. Sì me lo aspettavo perché io con Vincenzo ho giocato nel 2007-2008 e abbiamo vinto il campionato di Serie B e lui era già un allenatore in campo, un allenatore nello spogliatoio e un punto di riferimento per tutti noi. La sua strada era quella lo sapevamo già perché era già preparatissimo e ha un'ambizione molto grande, ha una dedizione del lavoro e quindi italiano era uno di quelli su cui avrei scommesso che sarebbe diventato un grande allenatore. Ora ha iniziato, a Spezia ha fatto molto bene, chiaramente l'ambizione che ha Vincenzo vuole sempre puntare in alto e quindi non lo so se sia giusto o sbagliato però è giusto che ci creda. Firenze è una piazza molto importante che negli ultimi anni non ha fatto bene e ha bisogno di ripartire e secondo me ripartire con un allenatore come Vincenzo Italiano che è molto preparato e giovane, ambizione, non ha paura di niente e penso che sia una scelta giusta. Chiudiamo le opinioni su italiano e sentiamo quella di Giampaolo Pazzini, grande ex Viola. Ma sembra sì che possa arrivare da quanto leggo, sicuramente ha fatto due anni delle cose strepitose a Spezia perché ha vinto un campionato e l'anno scorso si è salvata benissimo, giocando bene, proponendo calcio, quindi sicuramente tutte le premesse per fare bene ci sono, la Fiorentina ha bisogno di fare, adesso ha bisogno di fare un'annata da Fiorentina quindi insomma è auguro che possa tornare la Fiorentina che ambisca insomma per i posti che le meritano. Adesso parliamo del Bologna e in particolare di Tomiasu perché il giocatore giapponese piace all'Atalanta e non è una novità ma anche all'estero. Facciamo il punto della situazione con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Tiene banco il nome di Takehiro Tomiasu, difensore del Bologna in ottica mercato e c'è una squadra italiana su tutte che sta provando a strapparlo al club rosso-blu ed è l'Atalanta di Giampiero Gasperini. La duttilità dello stesso Tomiasu sicuramente è un fattore molto importante per far sì che Gasperini possa sfruttarlo al meglio. quest'anno ha giocato sempre nella difesa a quattro che non è quella più utilizzata da Gasperini però ha giocato sia sull'esterno che come difensore centrale e per questo sarebbe perfetto per la difesa a tre dello stesso Gasperini. Non sarà facile però per l'Atalanta riuscire a strapparlo al Bologna che chiede 20 milioni di euro e non accenna a fare un passo indietro. L'Atalanta però ha un jolly da giocarsi ovvero Musa Barrov che è ormai da tempo un giocatore del Bologna in prestito con diritto di riscatto che il Bologna eserciterà, vuole esercitare in questa finestra di mercato a 15 milioni di euro. Proprio per questo motivo potrebbe esserci una trattativa nella trattativa che potrebbe riguardare appunto anche Tomiasu. L'Atalanta però non è l'unico club interessato al giapponese che ha fatto benissimo nelle sue stagioni in Serie A. Infatti c'è anche il Tottenham sul giocatore e la destinazione Premier League sarebbe gradita allo stesso Tomiasu che potrebbe anche cambiare paese dopo l'esperienza in Serie A. Siamo soltanto alle prime battute. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno altri sondaggi sia da parte dell'Atalanta che da parte del Tottenham. La cosa certa è che probabilmente il difensore non resterà al Bologna. Resta da capire a questo punto soltanto quale sarà la sua prossima destinazione. A te! Continuiamo a parlare del Bologna e lo facciamo con Giorgio Comaschi, scrittore, giornalista e regista. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao a tutti, ciao a tutti, eccoci qua. Ti piacciono i rissaioli? Sì, perché so che ti stai riferendo alla frase di Sabatini su Arnautovic. Sì, mi piacciono i rissaioli perché sai, questa città è una città sempre così pacata anche nelle sue manifestazioni, Bologna. Allora un po' di cattiveria non guasta, sta venendo fuori in Bologna alla serba, un po' il cazzoso. Quindi secondo me è Arnautovic che ha questo profilo da Leonida alle Termopili, questo condottiero, crocifiero con questa faccia così, secondo me forse qualche guaio lo provocherà, ma alla fine, sono d'accordo con i dirigenti, alla fine qualche guaio sta anche bene, perché essere troppo molli non va poi così bene, quindi ci vuole a Bologna un po' di grinta. Poi insomma rappresenta bene il prototipo del 9, non è un falso 9? Ecco guarda, il falso 9 lo lasciamo a quelli che continuamente continuano a parlare in una lingua sconosciuta perché è sempre stato il finto centravanti, il centravanti di manovra, non si sa perché con quale demenza improvvisamente tutti parlano di falso 9, ma perché? Allora lasciamo perdere. No, lui è tutti e due. Ti è piaciuto comunque con l'Italia, con la maglia dell'Austria? Sì, lui è apparso ai bolognesi in quell'occasione, un po' come Carmelo Bene quando scrisse quel libro intitolato Sono apparso alla Madonna. Lui ha fatto questa apparizione ai bolognesi che non sapevano neanche chi era, perché dicevano la merda, non l'aveva mai visto neanche chi era. E invece si è visto un giocatore con gli attributi, un giocatore che sa giocare fuori dall'area, quindi falso 9, ma anche giocatore dentro l'area, anche giocatore forte, diciamo che è un Santander molto meglio secondo me, anche perché Santander è sempre stato definito un grande giocatore di testa, per me di testa Santander era una delle più grandi pippe del mondo, è sempre stato un giocatore scarsissimo di testa, invece Arnautovic no. Tanto per essere chiari. Invece ti dispiacerebbe la partenza di Tomiasu che piace all'Atalanta ma piace anche all'estero, in particolare in Premier League? Sì, perché a Bologna Tomiasu piace per questo suo essere, questo giapponesino che è arrivato qui, ha imparato la lingua in due secondi, va a scuola di italiano, è una specie di macchina, pensa lui è come un soldato, va in guerra tutti i giorni, c'è l'elmetto, arriva e fa la sua missione, fantastico giocatore, bravissimo, però qualcuno bisognerà che il Bologna forse sacrifichi, anche perché se ha voluto tenere Barro, che per me ha fatto bene, perché con Arnautovic sarebbe perfetto anche come caratteristiche e poi con l'Atalanta ci possono essere anche motivi di scambi anche di altri giocatori, forse come l'Amers, così non so. Mi dispiacerebbe però, sarei contento perché Tomiasu, andare a giocare con Gasperini ci potrebbe anche guadagnare lui, quindi per la simpatia che ho per Tomiasu, alla fine io avrei sacrificato un altro giocatore per dire se avessi dovuto sacrificarmi uno di quelli del Bologna, diciamo carini, avrei detto Svanberg, però mi fido della società in questo caso, non la contesto assolutamente. Senti, invece la Nazionale come la stai seguendo, con quale stato d'animo? Guarda, la Nazionale non mi prende da molto tempo, non so perché, anche se questa Nazionale è da amare, perché è una Nazionale fatta bene, è fatta con criterio, ha dei giocatori ha dei doppioni formidabili, se non gioca uno può giocare un altro. Non mi sembra che in giro ci sia niente di molto più forte di questa Nazionale, gli europei, probabilmente noi siamo attrezzati, il nostro, voglio dire, l'abbiamo già fatto. La partita secca, lo sai anche tu, lo sapete anche voi, la partita secca purtroppo ti porta a prendere un gol, poi non riesce a rimontare, puoi rimanerci secco in qualsiasi momento nella partita secca, però la squadra è una buona squadra da seguire con simpatia perché per la prima volta abbiamo una squadra che ha una sua, secondo me, una sua solidità importante. Ecco, adesso con il Bengio, non so, il Bengio non mi fa impazzire, però ha poi dei giocatori che possano fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Quindi, diciamo, non vibro per la Nazionale, però la seguo volentieri, questa è serata di caldo. Adesso ti lasciamo al tuo lavoro, non è che vai a fare qualche passeggiatina che di solito ami fare? Ah, sì, hai visto un mio video dove dico che al mare, sì, perché al mare passeggiano tutti, no? Si vive di passeggiatina al mare, uno fa la passeggiatina la mattina sulla spiaggia, poi va a far colazione, poi dopo mangia, ecco, lì dopo mangiato di solito c'è la pennichella, poi alla sera la passeggiatina dopo mangiato, cioè se dalle pensioni si fa quella passeggiatina con i bambini, sala giochi e si torna, il mare è fatto di passeggiatire, io amo molto osservare questa cosa, ero cattolica, tra l'altro con Eraldo Pecci che abbiamo fatto un intervento al Festival della Cultura Sportiva, proprio domenica sera, dove abbiamo parlato del perché il calcio parla in difficile e lì mi sono sbizzarrito, lì ci siamo divertiti con i 4-4-1-2-3-5 a riporto il 2 e avanza l'1. Va bene Giorgio, grazie mille, alla prossima. Grazie a voi, buona estate. E dunque dopo questa chiacchierata con Giorgio Comaschi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, appuntamento a domani, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.